amici di basket italy bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il campionato di lba che è arrivato al giro di buona insomma era arrivato settimana scorsa la quindicesima giornata siamo arrivati alla prima giornata del giro di ritorno o la sedicesima giornata per come preferite leggere lo spartito e anche questa settimana qua insomma ci ha detto parecchie cose parecchi spunti da cui ripartire parlando dei nostri beniamini del nostro campionato fortunatamente non sono solo perché quest'oggi è tornato a farmi visita matteo roldi ciao matteo buonasera a tutti buonasera nicolò approfitto per chiederti se c'è qualche novità sono qualche basket magazine sono gli ultimissimi giorni del numero natalizio chiamiamolo così in edicola ho avuto la fortuna di essere in copertina dove non ci sono le copertine locali quindi bologna e un altro paio di città di di essere in copertina con l'intervista di te nel prossimo diamo un piccolo spoiler c'è qualcosa di mio sempre dedicato a pesaro ma l'avevamo già un po detto se ti ricordi nel numero del nella puntata di dell'ultimo dell'anno è un'intervista ad andrea cinciarini pesaro che peraltro adesso è molto attiva visto che poi ne parleremo sicuramente ha cambiato il timone passando a me o sacchetti esatto ma prima di partire come dico sempre vi ricordo di seguirci su spotify su delle piattaforme di podcast in cui trovate il link qua in basso su youtube invece se se vi trovate su youtube oltre che volete vederci volete anche ascoltarci insomma iscrivetevi a questo canale youtube mettete un bel mi piace insomma commentate fatto quello che secondo voi è utile per supportarsi sempre ai nostri consigli anche su apple podcast ho visto con l'ultimo podcast dove avete analizzato la giornata di lba vediamo se è un fuoco di paglia o se tornerà ad essere anche su apple podcast io frequento spesso esatto quindi seguitici anche su apple podcast come dice matteo bene matteo direi che siamo pronti a partire io partirei con te parlando in ordine insomma anzi dando prima un repilogo velocissimo di quello che è successo questa giornata che ripeto è stata la prima di ritorno o la sedicesima giornata delle trenta che ci aspettano con cremona che batte trento per 99 80 prosegue la dinamo sassere 107 contro i soli 69 punti di pistoia varese venezia uno scontro diciamo dove venezia a vedere tutti i suoi muscoli infatti porta a casa la gara per 92 a 103 milano vince di misura contro tortona per 83 a 82 breccia invece batte treviso per 88 67 napoli vince su peso per 93 a 65 scafati vince sulla reggiana per 102 a 76 chiude la giornata con il posticipo di ieri sera di lunedì sera la virtus che batte a domicilio brindisi per quanto riguarda invece la classifica abbiamo il primo e due davanti che sono venezia e breccia quota 24 segue la virtus bologna sola quota 22 a quota 20 abbiamo napoli milano seguono trento e reggio emilia quota 18 poi abbiamo un terzetto di tre squadre da 16 punti quali cremona scafati e pistoia a 14 punti abbiamo solamente la di nuovo sassari tortone varese a quadro 12 quota 10 abbiamo pesaro e poi abbiamo quota 8 treviso e a quota 6 brindisi bene matteo partendo da parlare questa giornata volo parlare con te della prima giornata che si è giocata la prima su per perdone della prima partita di questa giornata quale cremona trento una cremona tornata in grande spolvero ha messo velocemente in soffitta la delusione per il mancato accesso in copitalia ha messo che si ok si può parlare di delusione ma non in senso assoluto perché comunque ricordiamo che cremona è neopromossa conosce bene la serie a per averla già calcata in passato però è pur sempre una neopromossa che ha saputo lottare fino alla fine per per questo traguardo che è sfilato proprio all'ultimo nello scontro diretto con con pistoia grande spolvero ma una cremona in grandissimo spolvero che è partita forte e è sempre di fatto tenuto tenuto dietro trento una trento che non ha trovato un grazulis ai suoi probabilmente ai suoi livelli a quelli che ci ha abituato che ha faticato molto anche con con un nonostante un un quinellis da 19 punti un alviti da 16 è mancato forse qualcosa mentre cremona ha avuto un gioco corale e una difesa che ha saputo mettere per larghi tratti di la gara in difficoltà trento ecco esatto insomma io tra l'altro leggo tra le fila di trento anche questo niang o ni o ni insomma niang spero di non sbagliare la pronuncia un giovanissimo ragazzo che in ex gen fa faville fa faville ha fatto 40 io lo conosco bene perché è cresciuto alla fortitudo e come tu sai io lavorando per la bsl san lazzaro lui è stato credo nell'anno prima del covid comunque ero presente come come responsabile dell'ufficio stampa del torneo e della bsl è stato mvp del del trofeo malaguti quindi conosco bene un giocatore che sin da giovanissimo quindi parliamo di 15 16 anni ha messo in luce le sue grandissime le sue ottime caratteristiche le sue grandi capacità atletiche e anche per certi versi balistiche un giocatore di cui trento potrà valersi negli anni a venire un giocatore di sicuro a venire esatto passerei adesso invece a parlare di quello che è stata la partita tra sassari e pistoia direi una partita dove non c'è tantissimo da dire direi una vittoria schiacciante di sassari su pistoia la più classica delle giornate storte di di per per pistoia che è arrivata soltanto a 28 punti nella nella prima metà di gara senza nulla senza nulla ovviamente togliere a sassari che sembra pian pianino essere in grado di di mettersi alle spalle un periodo complicato anche perché c'è un alfonso meccini che finalmente sta facendo vedere quelle che sono le sue relative giocatore atletico giocatore ballisticamente importante e sassari di questo potrà far tesoro perché è un giocatore che secondo me nel nostro campionato ha tutte le carte in regola per fare la differenza esatto e anche insomma a manifestarlo sono anche i 16 punti quattro assi un rimbalzo del nuovo acquisto brandon jefferson quindi direi che si sta ben integrando nel gruppo di bucchi si si bucchi sta pian pianino mettendo tutti i tasselli del suo posto ricordiamoci che la dinamo dall'inizio della stagione e questo probabilmente è stato un piccolo domino in negativo deve fare a meno di un giocatore che negli anni scorsi è stato decisivo come il mantas benzius che ha avuto un grave infortunio e partire con questo tipo di questa zavorra così pesante con un giocatore che peraltro conosceva molto meno l'ambiente come abbiamo detto quindi che aveva sotto controllo perfettamente la situazione che garantiva anche bidimensionalità perché comunque la fisicità importante anche in area non è una cosa di poco conto esattamente passerei adesso un'altra partita un'altra partita che vedeva insomma protagoniste due squadre non molto vicine in classifica ma che stavano avendo un momento positivo entrambe insomma visto prevalere una squadra piuttosto che un'altra in maniera abbastanza netta sto parlando di Varese Venezia una partita insomma dominata da Venezia sotto canestro ha fatto vedere più più e ha più riprese insomma ha tirato fuori i cosiddetti muscoli con una grandissima prova di Cavanghele doppia doppia sfiorata da nove rimbalzi quattro assist e quindici punti insomma direi una vittoria abbastanza non voglio dire schiacciante perché il risultato non dice che è stata una vittoria schiacciante di Venezia però una vittoria comunque un po' piettante perché comunque parliamo di una Venezia che vince sopra i cento punti quindi insomma non possiamo che definirla una vittoria scopiettante pirotecnica ecco contro contro una una Varese che era senza dubbio in un ottimo momento con un Nicomagnon che anche questa volta insieme a Dallana ha fatto molto bene però di la Cavanghele pur essendo se non sbaglio la seconda la terza già partita ufficiale ha appoggiato sul tavolo un biglietto da visita notevole perché ha fatto vedere di cosa può essere capace atleticamente ed è stato al tempo stesso sempre ben supportato da Amir Sims che secondo me è un altro di quei giocatori assieme a Ray John Tucker che può far vedere cose a cui non siamo così spesso abituati e a Kyle Wilcher l'altro nuovo acquisto acquisto a stagione in corso di Venezia quindi parliamo di una Ray che fa sempre il suolo fa sempre in maniera molto corale e pian pianino così come la stessa cosa va detto di Brescia dalle retrovie si sta scavando si sta preparando un terreno importante per sorprendere sempre di più no? Esatto io ti volevo fare una domanda visto che so che conosci questo giocatore di cui ti sto per fare il nome volevo sapere cosa ne pensassi della situazione che sta vivendo adesso ovviamente parlo di Thomas Woldetensai che insomma è al terzo o quarto N.A. di fila è finito fuori da come dire dalla roster dei giocatori di coach Bialazeschi volevo sapere cosa ne pensassi della situazione che lui sta vivendo in questo momento visto che lo conosci anche nella vita privata. Lo conosco bene perché come visto che parlavamo di BSL prima ne parliamo anche adesso visto che Thomas ha mosso i suoi primi passi prima di intraprendere la carriera universitaria negli Stati Uniti a Virginia no? In BSL giocatore secondo me straordinario ma ha rilita pienamente la Serie A probabilmente non riesce a ricavarsi anzi tolgo probabilmente dico forse qualcosa che per tanti sembra scontato ma è così non riesce a ritagliarsi all'interno del sistema di Bialazeschi che forse un po' più inquadrato rispetto a quello del suo predecessore che lasciava forse il brillo un po' più sciolto ai giocatori poi tu mi aiuterai che vivi Varese da più vicino non riesce a ricavarsi uno spazio ma questo non 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 progiudica assolutamente il valore del giocatore so che ci sono diversi club su di lui si è parlato anche di fortitudo anche se è una piccola una pista secondo me poco percorribile penso che il giocatore resterà in Serie A e quindi possa essere più vicino al progetto di Treviso almeno questo quanto mi è stato detto però sì le difficoltà sono sono palesi forse non solo le sue poi è chiaro che tutto è stato reso più difficile dall'arrivo di giocatori come Mannion come Young se non erro quindi ad acquisti che hanno rinfoltito il pacchetto di esterni lo hanno sostanzialmente relegato a quelli che tu hai definito molto crudamente ma ma in maniera anche corretta degli ne nelle ultime partite penso che probabilmente la sua parentesi a Varese sia molto prossima alla fine ma questo ripetisco non non dice nulla su quello che è il valore di un giocatore che secondo me è molto più vicino a quello che abbiamo visto l'anno scorso quello che abbiamo visto quest'anno per una serie di congiunture compreso un sistema di gioco che forse non valorizza pieno ma questo non è una colpa è il coach per carità quelle che sono le sue caratteristiche esatto diciamo che uno dei motivi per il quale è stato relegato in panchina è messo fuori fuori dalle rotazioni e la scarsa percentuale con il quale lui stava tirando che se non sbaglio è una percentuale sotto il 20% che diciamo per un tiratore come lui non è molto ammissibile diciamo ecco questo forse è il motivo principale per cui Bialazewski l'ha come dire messo come decimo giocatore del roster da fare entrare la prossima partita che ti vorrevo sottoporre è Milano Tortona che ha visto Milano vincere di un solo punto contro Tortona mi hai detto anche che hai visto una spezzone di gara giusto? Sì sì ho visto praticamente tutto il secondo tempo perché poi c'è il civil di zapping per cercare di informarsi e di coprire tutto quello che si può il più possibile una Milano che ha a lungo comandato non ha forse azzannato la partita nella maniera corretta e Tortona che peraltro adesso si è rinforzata sotto canestro con l'arrivo proprio da Milano di Ismail Camagate che prenderà il posto penso dell'altro del connazionale Noa che è partito con il botto ma poi si è un po' affievolito con il passare delle presenze è stata lì è stata lì con uno 6 a 0 ha messo il naso avanti però poi è arrivata la zampata di Devon Hall Devon Hall che secondo me con l'arrivo di Shabazz Napier e con la crescita e questa secondo me è una cosa che va molto sottolineata perché visto che si parla sempre degli italiani qua gli italiani là gli italiani su gli italiani giù va sottolineata la grande crescita di Giordano Bortolani e di Diego Flaccadori questo ha portato secondo me Devon Hall a liberarsi dei compiti di regia che forse propriamente non li competono e gli ha permesso di rendere di diventare quanto più vicino possibile al Devon Hall che avevamo visto nella sua prima parentesi milanese nella sua prima primissima parte dell'avventura milanese dove è stato anche decisivo per la conquista di uno scudetto ecco esatto poi un Niccolò Melli direi formato in VP 23 punti 8 rimbalzi vabbè oramai parlare di Melli mi sembra quasi superfluo un giocatore clamoroso 4-5 mettentelo dove volete sotto canestro una certezza e anche da fuori non dà mai punti di riferimento quindi un giocatore senza dubbio molto importante esatto per passare alla prossima gara direi che è stata una gara quella che ti sto per sottoporre molto simile a quella di cui stavamo dicendo prima Sassari Pistoia secondo me è stata molto simile anche Brescia Treviso insomma dove Brescia ha ridotto in brandelli Treviso per 88-67 33-9 di parziale nel terzo quarto Treviso è un po' scomparsa nella ripresa è un po' scomparsa e anche Vitucci lo ha sottolineato Treviso che sembrava aver dato segni di ripresa dopo gli arrivi di Elisevicius e Robinson invece qualcosa ancora non funziona ancora non funziona c'è stata la durissima contestazione dei tifosi che non hanno digerito probabilmente l'atteggiamento della squadra Brescia dal canto suo ha fatto quello che sapeva fare ha confermato il suo primato ha reagito dopo la sconfitta nell'ultimo turno del giro d'andata però deve comunque uscire dal campo con qualche grattacapo di troppo perché si è fatto male John Petrucelli e bisogna capire ancora quella che è l'entità dell'infortunio del ragazzo a meno che non stia uscendo qualcosa in questi minuti ma non sono sintonizzato in live con i canali di Brescia esatto, invece mi è sembrato di leggere poi, corregimi se sbaglio un possibile taglio di D'Angelo Derrison, no? è sicuramente uno dei giocatori sulla graticola in casa Brindisi è un pretoriano di Vitucci che ha creato un rapporto eccellente con il giocatore in terra Brindisina questo, questa subito no, in terra Brindisina con D'Angelo Derrison ah, prima si conoscevano dalla parentesi Brindisina tra i due si era creata una forte simbiosi che aveva permesso al giocatore di esprimersi ai massimi livelli a Brindisi il giocatore ha avuto anche dei grossi problemi fisici a Brindisi e non sta ripetendo quello che abbiamo visto nella sua prima parentesi italiana qui a Treviso qui a Treviso, insomma con la Nutribullet Treviso e quindi è inevitabilmente finito sulla graticola ho letto che la dirigenza ha parlato di possibili nuovi interventi mi pare evidente che se così fosse arriverebbero dei sacrifici e senza dubbio quello di D'Angelo Derrison potrebbe essere uno dei primi perfetto, perdonami pensavo stessi parlando di... ho fatto un errore io, perdonami un'altra gara invece andiamo verso il concludersi insomma delle partite della settimana è Napoli-Pesaro insomma Napoli batte Pesaro e la infossa sempre più in basso nella classifica sempre più verso la trasmissione esordio amaro sulla panchina di Pesaro per me o Sacchetti perché una delle novità della settimana è l'esonero di Maurizio Buscaglia e l'arrivo di Sacchetti però dobbiamo tornare sempre sullo storico solito problema perché Pesaro scende sempre in campo con meno stranieri rispetto agli avversari perché qui aveva solo Bluiette, Ford e Mokevicius che peraltro ha fatto zero punti in 11 minuti mancava ancora Scott Benford che è un giocatore secondo me fondamentale è necessario oltre al cambio in panchina con l'arrivo di Sacchetti che potrebbe, potrebbe, sottolino perché dovremo poi vederlo nel tempo dare forse un po' più libertà ai giocatori rispetto a un sistema molto più inquadrato come poteva essere quello di Buscaglia e magari permettere loro di rendere maggiormente perché Pesaro è stato protagonista di buoni alti, degli exploit importanti se non è roba tutto anche Milano e di bassi altrettanto importanti quindi trovare una stabilità con un sistema di gioco che delega più ai giocatori la responsabilità tra virgolette di gestire certe situazioni però inevitabilmente non si può regalare uno o due stranieri tutte le partite vuoi per infortuni vuoi perché comunque Pesaro parte già con uno straniero in meno rispetto ai sei che solitamente hanno tutte le altre squadre e quindi bisognerà intervenire non solo sulla panchina Brescia invece no scusa Napoli ha fatto il suo era arrivato se non era una sconfitta nell'ultimo turno ha rialzato la testa ma Napoli non è più una sorpresa è stata una grande sorpresa nella prima parte del campionato ma non è più una sorpresa perché ha dei giocatori come Elnis come Pullen come Zubcic che sono delle certezze oramai e danno garanzie importanti per arrivare a un traguardo playoff che secondo me è assolutamente una portata di Napoli che già ha fatto un piccolo grande exploit agguantando le finale di Coppa Italia ma è stata un po' la giornata delle campane perché se vuoi ti anticipo di qualche secondo è arrivato anche il riscatto di Scafati era arrivato un meno 37 costato l'eliminazione della Corsa della Coppa Italia invece c'è stata una bellissima reazione dei giallo-blu contro Reggio Emilia 102-76 Scafati che ha reagito come aveva chiesto Boniccioli 28 punti in 29 minuti di Rivers e una reazione di qualità dei ragazzi di Coach Boniccioli Gamble importante anche lui sotto le planche insomma Scafati c'è ha perso un treno importante perché poteva essere una bella sorpresa anch'essa alle final eight però la reazione che tutti si chiedevano tant'è che poi c'era stata anche la scusa da parte della squadra staff e dirigenza ai tifosi in settimana è arrivata quindi mi pare che anche qui la pagina sia stata voltata nella maniera più corretta esatto e concludiamo la giornata con ieri sera Virtus Brindisi dove credo che anche qui non ci sia troppo da dire insomma una Virtus avalanga su Brindisi Virtus avalanga il famoso no contest come dicono gli americani quelli bravi su Brindisi Virtus totalmente in controllo nonostante fosse priva di Toko Senghelia che dovrebbe stare fuori circa una quindicina di giorni per un problema alla schiena della lombargia che non preoccupa più di tanto anche perché può essere figlia del tanto impiego del Giorgiano quando è mancato Polonara che invece con grande piacere vediamo sta sempre meglio quindi questa è una cosa bellissima per il giocatore per i tifosi da Virtus per tutti quanti Virtus prova corale c'è poco da dire no contest non c'è stata partita non c'è stata non c'è stato proprio sfida Brindisi sempre più in difficoltà anche qui sembrava esserci stato qualche fiammata in grado di dare lo sprint per provare a invertire la rotta Bartley l'ultimo arrivato che avevamo già visto a Trieste si conferma un giocatore molto importante però a Brindisi penso serva qualcosa di più servano più muscoli più sostanza perché mi sembra una squadra che sia carente di centimetri ma anche di muscolatura perfetto direi che abbiamo analizzato tutta la Serie A siamo arrivati si è stato bravissimo Matteo ad analizzare tutte le partite della Serie A e si avrei anche io mi sarei soffermato su Frank Bartle insomma l'hai fatto anticipatamente quindi direi che allora ci possiamo salutare io vi rimando alla prossima settimana dove parleremo nuovamente della seconda giornata di ritorno devi dire qualcosa Matteo no io voglio salutarti e ringraziare tutti quanti scusate ti ho anticipato non pensavo guardando l'analisi consueta pensavo di aver fatto giusto e vi rimando alla prossima settimana vi ricordo sempre che siamo presenti su tutte le piattaforme di podcasting e qua su youtube un bel iscriviti mettete mi piace a questo video ci vediamo settimana prossima ciao alla settimana prossima un saluto a tutti ciao